Quando il mitico Franco alzava la mano ed era così rispettato dagli arbitri che quando alzava la mano Baresi, perché l'alzava sempre bene, l'arbitro doveva fischiare il fuorigioco perché il professor Baresi aveva alzato la mano e quindi se l'alzava la mano vuol dire che era fuorigioco. Meglio dei guardalini. Molto meglio dei guardalini. Molto meglio. Se fosse stato Baresi magari avrebbe visto meglio. Perché di parte, perché ci vede, semplicemente perché ci vede.